amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive come come spesso facciamo prendiamo spunto un po dalle richieste che ci vengono ci vengono fatte soprattutto richieste che io ricevo tramite mail spesso e volentieri ciò ogni giorno dicevo veramente decine di mail tantissime telefonate però soprattutto le mail quindi ogni tanto cerchiamo di riassumere quelle che sono le richieste che più spesso ci vengono fatte per dare una risposta a questo punto non solo al singolo al singolo cliente che ci chiede questa cosa ma per dare una risposta un pochino più allargata ecco una delle domande che spesso mi fanno è quali sono le strade o i sistemi per ridurre i consumi su una vettura perché ovviamente costi del carburante sono cresciuti in maniera più che considerevole nel corso di questi ultimi anni ecco parliamo di consumi di carburanti ovviamente benzina e diesel non parliamo della parte elettrica perché sostanzialmente le domande vertono sulla parte di costi appunto benzina e diesel tralascio anche la parte diciamo gpl o quant'altro perché sono sono delle sottocategorie allora partendo dal concetto che ridurre i consumi non è una cosa semplice quindi proviamo da questo punto di vista quindi scarterei sicuramente tutte quelle diavolerie o tutti quegli accrocchi passatemi il termine che ogni tanto leggo su internet o vengono proposti da fantomatici produttori che come dire garantiscono risultanti mirabolanti e questi secondo me diciamo sono tutte cose che assolutamente non danno nessun tipo di risultato allora i consumi la prima cosa da considerare sono in funzione del tipo di guida che ciascuno di noi ha per cui l'attenzione a una guida moderata o una guida intelligente sicuramente riduce notevolmente i consumi il fatto di avere una macchina in piena efficienza anche in questo caso una macchina trascurata una macchina non adeguatamente non adeguatamente tagliandata anche in questo caso peggiori consumi quindi ci sono diciamo diversi aspetti che possono essere migliorati poi ovviamente se uno guida la macchina solamente in città ovviamente in città c'è un consumo molto superiore cioè l'ottimizzazione del consumo è arrivare a un punto di velocità costante con una coppia costante in quel caso e con un piede leggero ovviamente in quel caso la macchina consumerà il meno possibile sotto a quella soglia lì chiaramente in funzione della macchina in funzione della cubature non può andare però quello è il punto di soglia ottimale ovviamente in città la macchina consuma molto di più perché bisogna spostare tutte le volte la massa da ferma a un punto di soglia ottimale che solitamente in città è difficilmente raggiungibile quello che noi consigliamo ai clienti ci sono un paio di sistemi per ridurre i consumi sempre in maniera limitata cioè non si può pensare che una macchina che fa gli 8 con un litro ne faccia gli 8 chilometri con un litro ne faccia 16 cioè è improponibile però ci possono migliorare un pochino i consumi e sostanzialmente le strade sono due al di là dei suggerimenti che vi ho detto prima quindi piena efficienza tagliando i fatti regolarmente le gomme tenute alla giusta pressione perché anche lì se uno le gomme le tiene sotto pressione cioè sotto il livello di pressione consigliato ovviamente l'attrito è maggiore e i consumi aumentano quindi sono tutta una serie di piccoli fattori che se uno è attento e sa come comportarsi sicuramente ha un beneficio anche in termini di costi di consumo. Quello che suggeriamo noi sono sostanzialmente due aspetti, un aspetto principale che è quello di andare a ottimizzare i parametri di gestione elettronica del motore, la famosa rimappatura della centralina che serve sì per incrementare entro determinati ambiti i valori di coppia e potenza però serve anche per andare a diminuire i consumi e poi uno chiaramente spiego anche il perché perché tante volte uno mi dice ma scusa mi garantisci più coppie più potenza minero i consumi manca solo che mi paghi tu il lavoro e abbiamo fatto bingo, è una domanda lecita e la risposta ve lo spiego in maniera molto semplice, nel momento in cui noi andiamo a ritoccare i valori soprattutto su macchine turbo compresse, diesel o benzina, i valori di pressione cosa succede? Che la macchina a parità di velocità gira a un numero di giri più basso, se una Giulietta a 130 all'ora, una Giulietta turbo benzina diciamo a 130 all'ora, facciamo l'ipotesi, con mappatura stock gira a 3200 giri, con una mappa io aumento il valore di coppia, quindi avrò più coppia a parità di velocità, a questo punto chiaramente a quella determinate velocità il numero di giri sarà leggermente ridotto, quindi a 130 all'ora, stessa macchina rimappata girerà a 3100, 3000 giri diciamo, quindi questi 100 giri, 150 giri avendo ripeto il parametro di riferimento che è la velocità costante, ovviamente andranno a incidere su una riduzione dei consumi, questo ovviamente sempre ammesso e non concesso di fare il calcolo a velocità costante, infatti noi diciamo in linea generale quando i clienti ci chiedono di fare appunto una rimappatura scendolina, alla fine dell'anno sicuramente c'è un risparmio, però questo risparmio può essere più o meno sensibile a seconda del tipo di strada che viene fatto, cioè se uno la macchina la usa sempre in città praticamente non cambia assolutamente nulla, oppure se uno la macchina la usa sempre in termini più che sportivi addirittura ha un peggioramento, perché ovviamente più potenza, più la macchina viene diciamo sfruttata e più ovviamente aumentano i consumi, se invece uno utilizza la macchina spesso su lunghe percorrenze, per cui fa un mix fra città e extraurbano, a quel punto per il discorso che vi ho fatto prima, a quel punto ha un beneficio anche in termini di consumo, comunque alla fine la media, ciascuno di noi salvo rarissimi casi, la media alla fine dell'anno su x km che uno fa è sempre positiva, poi questo positivo può variare in funzione delle modalità d'uso della macchina. La seconda strada che si può intraprendere è sempre a livello di elettronica, lavorare sul tempo di risposta del pedal acceleratore, quindi ho fatto spesso nei video, ho fatto vedere questo pedal booster che poi in sostanza è questo aggeggino qua, che va a modificare il tempo di risposta del pedale acceleratore, quindi cosa significa? Che se io lo setto su una posizione diciamo un pochino più sportiva rispetto a quello che è il settaggio che viene fatto dalla casa andrò a far lavorare meno a vuoto il pedale acceleratore, cioè sprecherò meno benzina per coprire questo lag o questo buco che inizialmente qualunque macchina ha, quindi in questo caso vado a migliorare non solo l'efficienza dinamica, ma vado a migliorare anche il discorso dei consumi perché lavorerò meno, butterò via una quantità di benzina che su una macchina stock inevitabilmente faccio, poi ci sono alcune macchine con questo lag più accentuato, alcune meno, però in generale con questo sistema vado a ridurre questo lag e se vado a ridurre il lag ovviamente vado a ridurre anche i consumi. Altre cose sostanzialmente non ce ne sono i miracoli chiaramente non li fa nessuno e anche questi due ambiti che vi abbiamo proposto non possono fare i miracoli, però qualche risultato lo danno. Quello che appunto il consiglio è rimane sempre il fatto di adottare uno stile di guida ovviamente intelligente, chiamiamolo così se uno adotta uno stile di guida intelligente e fa due piccoli ritocchi sulla macchina, quantomeno alla fine dell'anno un certo risparmio sicuramente lo può avere. Poi ripeto, altre cose sono determinate dal tipo di guida all'estate come vi ho detto. L'importante è non andare a cadere in equivoci per cui ascoltare suggerimenti che non hanno senso di esistere perché se ci fossero delle soluzioni ottimali per ridurre i consumi, questo da un punto di vista tecnico le case lo farebbero già di default, quindi come ho detto prima miracoli non li fa nessuno, si può come dire ottimizzare qualche cosa, bisogna solo stare attenti a non credere nelle chimere perché queste qua non esistono. Io direi che anche per questo argomento qua spero di avervi risposto in maniera esaustiva, aspetti i vostri commenti, qualunque tipo di domanda, di quesito, non avete capito qualcosa, me lo fate, io poi a livello di risposte come cerco di fare sempre e questo mi comporta un notevole dispendio di tempo, ma lo faccio molto volentieri, quindi fatemi le domande e se c'è qualcosa vi rispondo più che volentieri. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima! Ciao!